Qualità sicure, si chiama così il marchio che la regione siciliana da diversi anni ha lanciato e che adesso ha completato la lunga e articolata procedura anche nei confronti con Roma prima e con Bruxelles dopo. Noi abbiamo sin dal primo momento sostenuto la iniziativa di questo gruppo di giovani imprenditori di Ocompro Siciliano perché siamo convinti che in un mercato fortemente globalizzato, purtroppo anche economicamente, il nostro agroalimentare abbia tutte le caratteristiche per conquistare fette di mercato interne e internazionali. La Sicilia è un brand straordinario. Abbiamo molto apprezzato l'iniziativa di Ocompro Siciliano, quindi di diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla importanza del consumare le produzioni siciliane, le nostre eccellenze e produzioni di particolare qualità. Oggi peraltro sigliamo un protocollo d'intesa che farà sì che il marchio al quale il governo della regione ha lavorato con particolare impulso e impegno, il qualità sicura garantito dalla regione siciliana, anche attraverso azioni comuni di co-marketing con Ocompro Siciliano, possa essere ulteriormente conosciuto, diffuso e promosso per generare quell'economia sana attorno alle produzioni siciliane e quindi promuovere sviluppo, crescita e occupazione in un settore quale l'agricoltura, che non può che essere strategico per l'economia siciliana. Grazie